Grazie per essere nell'ambiente qui, che mi riorda tante cose. Io ringrazio il sindaco e tutti voi della presenza per avermi così con importanza riconosciuto. Sono quasi sorpreso dall'accoglienza che mi hanno fatto qui, che mi fate qui, che mi hanno fatto fuori, o perché ce ne arriva fuori al centro in questa maniera, sarà per questo, o penso anche perché mi sono compostato anche abbastanza bene, della chiesa ho voluto bene a tutti, non ho voluto mai male a nessuno, ho sempre ripetato tutti, ho avuto le mie idee senza dannare agli altri. Ogni volta sono contento, grazie a tutti, un pietro di manubitazione.